basta cosa m***a di stretchers raga non la mettono fin quando non so se la lasciano fin quando non annunciano che la lasciano fin quando non annunciano che è un bug e quindi non c'è basta è inutile metterla se poi la tolgono e basta basta usate un p***o di cervello ma come fa dai ma come bella linea grazie per i 7 mesi allora facciamo il suo comando perchè davvero mi dà fastidio ragazzi non è ancora bellissima la freccia però che devi vedere la freccia guarda 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 commenti di tutti i corti ah no? no gli fps aumentano se vedi una chiavica guarda vicino se è forte ma io gioco il mille reti di qua te l'ho detto mi sposta perchè se no veramente faccio di tutto ciò è difficile no però rimane così adesso devo giocare è vero è vero ma ora ragazzi chi si trova più? ma guarda che 1 c'è la visibilità sballata eh si me ne so quel genere è troppo alta eh 2 la devi abbassare no non voglio abbassare niente ah è troppo alta perchè ovviamente è cambiata la resta non è che te l'ha cambiata il gioco no 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 non me l'ha cambiata il gioco allora ti devi solo abituare potete abituare oppure c'è la manca se vedi fai stai in giro a destra non vedi te l'ha cambiata o va che è anche uguale ma che bello il gioco oh vado a metterla anch'io mamma mia oh vado a metterla anch'io oh e basta oh e chi sei che mi attraversi tutto guarda qua che è il gioco oh mio dio let's go troppo forte guardalo come scoppi dentro eh i personaggi nemici ora li vedi due volte più grandi è troppo forte a chi smira più? a chi smira più bro? da lontano smiri? avvicino o no? vabbè 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 o vedi pixel sgranati no pino ma no ma come accagemmo più veloce il gioco, più dinamico va bene ma secondo voi dentro quanto la torta no prima di martedì se fanno un apodetto un mese scillo perché da oggi che da quando ho attaccato tutto quanto che mi spavano la straccia perché tanto la toglieranno però sì c'è un bug per avere la straccia infatti l'ho messa hai messo la straccia yes quale hai messo scusami ho messo 1.44 per 1.80 ma si può mettere pure 1.280 1.65 hai proprio la old tu quella col mirino si si puoi mettere tutte però ogni volta che avvi il gioco devi andare sul video del pass battaglia la lo evi e poi ah devi entrare in creativa vai sul video ma si vede una mese beh sì no si vede una mese è un cazzo se ti abitui cioè magari potessero lasciare così però per la live è ovvio è una merda si eh sì per la live è ovvio ma per la live è per i video eh sì sì non un content non un content non ha quelli no no col chiamato ma sei impazzito ma vediamo eh 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 era per fare fai dare un po' ah era nella quindi adesso non c'è ne più con le bar del erano per la live è per i piedi di personaggio guarda che bello guarda che bello ma mamma mia che bello vi giuro è la prima parte che faccio ve lo giuro ve lo giuro la prima partita che sto facendo non ci posso credere mamma mia che che the feels non ci credo che figata che figata non ci credo non lo facevo da tantissimo tempo ma no no guarda anche per chi non vuole abituarsi solo per provare come ci si sente a usarla è bellissimo solo per provare come ci si sente a riusarla e tappare eh eh è una cosa assurda no 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 cioè poi senza puntino oh mio dio oh mio dio voi non avete idea non avete idea adesso vabbè era 1440 lì non l'ho cambiata però non avete davvero idea della sensazione che si prova eppure ci siamo eh certo questa è la 1440 Alright no 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 voi non potete capire NONONONONONO Oh no No la tolgo perché sennò poi quando me la tolgo divento troppo triste ve lo giuro no 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 non metti la stretched vi dico tanto sono sicuro del 100% che la toglieranno quindi ha senso mettere poi io non ho mai usato la stretched semmai una volta per due giorni quindi no dovrei fare un comando per la stretched esattamente quello che c'è guarda quanto è bello guarda quanto è bello no regà troppo bello per essere vero si dalle impostazioni segna a 1920x1080 una cosa per tutti dalle impostazioni mi continuo a segnare 1920x1080 è quello che intendevo io in game le impostazioni anche a me con me la segna sempre cioè in tutte le streste le segna sempre a 1080x1080 no a me non me lo segnava quando facevo quello normale aspetta però la risoluzione 3d segnava Gio no 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 lo segnava bene prima mi piace Nova Season mi piace molto in questo momento mi pare che la risoluzione 3d cambia Marta no 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 perché premevo il click a destra e mi andava in full HD Marta questa è la best season ever frate se rimane sta roba mamma mia guarda che bel gioco hai trollato chiedo scusa hai trollato Insta non ho trollato non ho trollato mamma mia quanto è bello sto gioco ora perché è legittamente era troppo no regà troppo più bello così è troppo più bello finalmente un gioco decente ora un gioco decente oh chi dorme guarda grande ancora il bug che non si muove guarda quanto è pulito sto gioco oh si oh la oh la what mi ha fullato col pad mamma mia è un altro gioco regà ecco ma guarda me l'assorbisco volentieri è una bomba sta musica è una bomba oh oh oggi sono felicissimo solo posso proporre una cosa oggi non ci lamentiamo oggi è un bel gioco oggi questo è un bel gioco oggi è un bel gioco oggi è un bel gioco questo è un bel gioco mamma mia è un altro gioco mamma mia ma io non capisco ma chi è che gli ho detto a questi che non devono fare questa cosa cioè così cioè la droga veramente è forte cioè ma guarda quanto è più bello il gioco è proprio un altro livello ecco il primo ma così il gioco te lo godi da dove sparano da dove da dove c'abbiamo la chiave si ce l'hai tu power credo no ok 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 dove io arrivo qua da me da me qua qua chi è questo torretto Ciro l'ho già coperto ah è buono ma poi c'è ti aumenta ti buffa la confidence capito qua qua vieni vabbè vado ad aprire vado lì a sinistra vado lì a sinistra testata e vediamo quanta arriva vai ah sono già allocati sta a 300 e rotti anzi sta a più di 300 frame dai io non lo voglio fare perché l'ultima volta che ho modificato le cose poi mi è crashato il gioco io non lo voglio fare perché l'ultima volta che ho modificato le cose mi sono state Grazie a tutti.